bella a tutti ragazzi dal vostro japp 881 ben ritrovati nel mio canale siamo qui su world of ship il nuovo simulatore che è uscito oggi mi sembra sì ragazzi c'è domenica per me sarebbe oggi voi lo vedrete domani e qui possiamo scegliere fra tre navi ovviamente poi questo sarà un gioco free to play ma dovrai comprare delle cose sarà un casino capirlo perché in inglese io un po lo capisco però non è che sono tanto ferrato in materia e ragazzi allora io voglio scegliere la weymouth la nave inglese vediamo che qui ci cerca una battaglia ovviamente un multiplayer dai dai vediamo e ci fa il caricamento ovviamente ci carica la mappa ora vediamo come usa landscape che vuol dire per proteggere la tua nave da guerra dai nemici boh vabbè cattura la base islanda play entering battle ok ok ma noi siamo blu quindi come si fa vabbè comunque noi siamo il blu ah ecco il radar no 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 perca puttana ci siamo collisionati ma perché non li traducono sti giochi non ho mai capito sti simulatori vabbè comunque dobbiamo conquistare la base e come si spara oh ecco perché Eccola, l'abbiamo attaccata, raga Ma gli abbiamo fatto danno Stanno sparando a me Vai Ah, dobbiamo sparare prima Sì, l'ho presa, l'ho presa, raga L'ho presa, ho capito Vai, vai Ah, ecco, di sicuro quelli sono non consumabili Ma di sicuro proprio, eh L'ho fatto 1800 di caldo, raga Vai Vai, 1200 Nice Le voglio affrontare una So, buon punto, eh Dai Bello sto gioco, eh In calza, eh È più bello di quello che mi aspettavo Dai, dai Voglio essere io ad affondarla, dai Bella, cazzo Abbiamo affondato la madre Ma stiamo nella merda, però Bella vita Adesso Attacchiamo quella Nooo No, raga Voglio pensare a questa Perché Guardate, eh Vai 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 L'abbiamo abbattuta, raga L'abbiamo abbattuta L'abbiamo abbattuta, raga Vai, un'altra È bello È bello questo gioco Cazzo Mi sta piacendo Non me lo aspettavo Cioè Non me lo aspettavo così In calzante, raga Eh Continuiamo ad attaccare questa È stata affondata, raga Uno squadrone ho trovato Vai 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 Diamo gas Vai Questo lo prende Questo colpo Faccio Nooo Sì Questo lo prende Questo lo prende Vai Questo Grande Che colpi Raga Vai 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 Porca Puttana Dai Quante Quante Ne mancano Devo girare Grande, raga Grande, ragazzi Abbiamo vinto la prima partita Bella così Ci siamo divertiti Cazzo Questo gioco mi sta piacendo Spero possa piacervi Anche a voi Abbiamo fatto la prima vittoria In team Abbiamo ricevuto 2851 C'è il simbolo di una Di un ancora 1204 stelle Ah, quelli sono i bonus XP Performance Performance della battaglia Abbiamo fatto 11302 Danni Totali E abbiamo fatto 25 Hit target Raga C'è 25 colpi E personal result Questa è la Cosa per C'è la I risultati personali In team Eccomi Eccomi Sono Primo Secondo Terzo Quarto Quinto Sesto Raga Per danni Fuori di testa Grande Mi piace Sto gioco mi piace Bello 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 E Andiamo indietro Ritorniamo al porto Level 1 Abbiamo scavalcato Il primo livello Vabbè E Fai gli XP Per Guadagnare Ovviamente Gli upgrade Per la nave I miglioramenti E modifiche E Vabbè E questa cosa Si può fare Sulla 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 tabella Vabbè Got it E Upgraded New Vabbè E Come si fa Quadrato Manage Slot Ah I progetti E Il sistema Di controllo Per I cannoni Sarebbe Si 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 Lo installiamo Vai Si Installiamola Quindi è così E ovviamente Ci saranno cose Da comprare Di sicuro Infatti Lo store Eccola Andiamo allo store Visitiamo lo store Si 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 Beh Il minimo è di 10 euro raga Sto cazzo Ah no no Di 5 Di 5 euro Magari ce lo facciamo in mini shop Più in là Quando capiremo di più il gioco Comunque bella ragazzi dal vostro Jab 881 Da questo gioco che mi ha colpito parecchio E spero vi abbia colpito anche a voi E' tutto ragazzi Dalla nostra Weymouth La nostra nave è tutto Ragazzi vi saluto Bella a tutti e varial command Ciao Grazie a tutti Grazie.